Venerdì 18 ottobre siete tutti invitati a partecipare al convegno organizzato dalla FOIV, Declarazione degli Ingegneri, al Laguna Palace a Mestre sul tema riqualificazione di Porto Marghera. Un convegno molto importante che focalizzerà alcuni punti fondamentali di ripresa dell'economia e della società e del supporto Marghera e vi invitiamo caldamente a partecipare al Laguna Palace. Grazie. Grazie.